La loro contrarietà l'hanno esternata più riprese fin dentro l'aula del Consiglio Comunale. Dopo la prima sospensiva e modifica della variante su Largo Tremartiri, l'ultimo Consiglio Comunale dell'attuale legislatura ha però approvato la delibera in parte rivisitata che divide l'area pertinente a Largo Tremartiri in quattro comparti edificatori in favore dei soggetti privati coinvolti, ovvero quello che scongiuravano i residenti mobilitati da settimane, che temono un'ulteriore erosione del verde per nuove edificazioni con un ulteriore carico sulla viabilità già complessa della zona. L'approvazione della variante in comune mette il punto a un percorso amministrativo, ma non alla mobilitazione dei residenti che hanno avviato una seconda raccolta firme e che si riuniranno di nuovo in assemblea valutando persino un ricorso al TAR. Avremmo preferito, come ha chiesto anche la minoranza, peraltro che sospendessero quantomeno questa variante, perché i cittadini hanno parlato, hanno detto, hanno dimostrato che ci sono dei problemi e allora magari la nuova giunta avrebbe potuto ripensare anche tenendo conto di quello che i cittadini di Soria hanno detto. Purtroppo non è stato così, hanno voluto andare all'approvazione definitiva, anche se sulla viabilità ovviamente l'hanno modificata completamente, il che sta a significare che la prima delibera, quindi la prima scelta, diciamo così, non era una scelta appropriata. Noi non riteniamo che sia appropriata neanche l'ultima, naturalmente, perché abbiamo sempre detto fin dall'inizio che il grosso problema, oltre a quello della viabilità, era quello del verde, che vediamo qua alle mie spalle, unica zona verde prevista dal piano regolatore come verde e sulla quale hanno tirato una riga per far edificare i due privati. Uno degli obbrovri di questa delibera è l'ecomostro che vanno a edificare al posto dell'ex Suzuki, un edificio che parte, partendo dal piano strada, di cinque piani. Adesso le macchine che usciranno da lì, dove andranno? Tutte sul ponte di Portarimini? Oppure andranno direttamente con un'uscita privilegiata sulla rotatoria? Cioè, non ha né capo né coda, fuorché l'interesse dei privati e del comune di fare cassa. Parlando della variante, sembra che debba proseguire la ciclabile, che attualmente si interrompe proprio all'altezza delle costruzioni, ma se deve proseguire, dove prosegue? Vengono abbattute o si chiude via Caboto o si tagliano gli alberi. Quindi ancora dio verde del tutto. La realizzazione della ciclabile nella delibera della provincia è condizio sine qua non per tutta la delibera. Quindi gli alberi vengono giù e la ciclabile dovrà essere fatta. Non la farà questa amministrazione, poco ma sicuro, però la ciclabile dovrà essere fatta. Quindi, meno verde, più asfalto. Per una città che ha preso come slogan costruire sul costruito è il top.